Libro terzo Incomincia il libro della consolazione interiore. Cristo parla interiormente all'anima fedele. Darò ascolto a quello che stia per dire dentro di me il Signore. Beata l'anima che ascolta il Signore che le parla dentro e accoglie dalla sua bocca la parola di consolazione. Beate le orecchie che colgono la preziosa e discreta voce di Dio e non tengono alcun conto dei discorsi di questo mondo. Veramente beate le orecchie che danno retta non alla voce che risuona dal di fuori ma alla verità che ammaestra dal di dentro. Beati gli occhi che chiusi alle cose esteriori sono attenti alle interiori. Beati coloro che sanno penetrare ciò che è interiore e si preoccupano di prepararsi sempre più con sforzo quotidiano a comprendere le cose arcane del cielo. Beati coloro che bramano di dedicarsi a Dio sciogliendosi da ogni impaccio temporale. comprendi tutto ciò, anima mia e chiudi la porta dei sensi affinché tu possa udire quello che ti dice interiormente il Dio tuo Signore. Questo dice il tuo diletto io sono la tua salvezza la tua pace la tua vita stai accanto a me e troverai la pace lascia tutte le cose che passano cerca le cose eterne che altro sono le cose corporali se non illusioni e a che gioveranno tutte le creature se sarai abbandonata dal Creatore O anima mia rinuncia a tutto e fatti cara e fedele al tuo Creatore così da poter raggiungere la vera beatitudine.